La vittoria di Fratelli d'Italia ha consentito anche incarichi politici di rilievo. Sì, oggi siamo qui in un salone importante e prioritario per la Campania, il settore della nautica e strategica qui in Italia. Non a caso abbiamo istituito il Ministero del Mare con il Ministro Musumeci appunto per dare un segnale importante a tutto il settore, un settore che va coccolato perché offre ancora la possibilità di crescita nonostante i momenti di crisi che abbiamo avuto in questi anni, il settore della nautica ha continuato a crescere con un fatturato importante anche a supporto del livello occupazionale. Quindi questo Governo continuerà a sostenere. Diciamo, è un segnale importante. Il settore nautico è un segnale importante. 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 è un segnale importante.